La Regione Toscana esce da Arezzo Fiere. Sono tutte da capire le conseguenze della riforma della pubblica amministrazione, così come stabilito dal Ministro Madia? Il commento è del Presidente di Arezzo Fiere e i Congressi, Andrea Boldi. Ovviamente si tratta di capire, non da un'agenzia, ma da un rapporto diretto, da un colloquio con il Presidente Rossi e con l'assessore Cioffo, qual è la visione della promozione del Manifatturiero Toscano. Si tratta di capire se quello che abbiamo fatto, quindi risanare questa società, quello che stiamo facendo, quindi pagare i costi di costruzione, ha una logica e il fatto che stiamo mettendo in piedi 5 nuove fiere se hanno una prospettiva industriale. È ovvio che queste cose andranno chiarite. Avrei preferito questa cosa non apprenderla da un'agenzia, ma magari dai rappresentanti, dagli assessori territoriali, per esempio, che hanno partecipato alla Giunta, che ha stabilito la non strategicità di questi enti. Credo che ci siano delle problematiche, tipo il fatto che la Regione abbia investito 24 milioni e ora si trova a pagare più tasse che soldi per la promozione. E' ovvio che questo qui rompe un rapporto di fiducia o di collaborazione con i territori. C'è preoccupazione per il futuro di questa struttura? No, la mia preoccupazione è per la città, perché il futuro della struttura ovviamente è legato alla volontà di tutti gli attori pubblici, perché rappresentano la stragrande maggioranza dei soci, ad investire in questa struttura, cioè a farla funzionare. Poi la struttura adesso funziona, è redditizia, ma nessuno investe 40 milioni per fatturarne 6, nonostante sia stato raddoppiato il fatturato. Se si investono 40 milioni se ne vuole fatturare 80. Separare la promozione, o meglio la parte gestionale dalla parte immobiliare, ha una logica molto importante, ma potrebbe provocare il recesso dei soci minori. Si parla di qualche 5-6 milioni di euro di partecipazioni, quindi è un processo abbastanza complesso. Avete incontrato Nuova Banca Etruria? No comment, diciamo non come presidente di Arezzo Fiere, però ho avuto modo di parlare con Nuova Banca Etruria in un'altra funzione. Però credo che Nuova Banca Etruria potrebbe essere l'outsider in queste questioni. In maniera positiva? In maniera positiva, sì. Devo dire che ho avuto un'ottima impressione dall'amministratore delegato Bertola. Io sono un pragmatico, quindi cerco di non valutare ciò che è stato e tutti gli errori che sono stati fatti, diciamo anche a livello governativo, nella gestione di questa questione. Quello che vedo è che attualmente abbiamo un attore che non solo ha parole, ma anche concretamente pare che voglia reinvestire nel territorio. Vediamo su temi concreti, uno dei temi è anche la fiera, altri temi ancora più importanti, l'economia territoriale, penso in particolare al settore orafo. Forti preoccupazioni sull'uscita della regione da Arezzo Fiere arrivano dal sindaco del comune di Arezzo, Alessandro Chinelli, e dall'assessore alle partecipate, Alberto Merelli. La delibera è legittima in quanto la regione doveva dismettere le quote di partecipazione di quelle società che sono in perdita, quindi non posso contestare la decisione. Diciamo che non è compiutamente corretto il percorso che è stato seguito, perché Arezzo Fiere Congressi è un ente che svolge una funzione nel territorio aretino importante. Oltretutto gli altri soci di minoranza sono la Camera di Commercio, la provincia e il comune, che a mio avviso andavano coinvolti in questa decisione di dismissione, perché ora il problema chiaramente dopo che la regione si è tolta d'impiccio è tutto sulle nostre spalle. Si è tolta, ha programmato di togliere gli stiti d'impiccio, in realtà ci sono due anni perché ha deciso di vendere entro la fine del 2017. Il percorso poteva essere comune e forse può ancora esserlo, per cui magari in futuro cercheremo di coordinarci con la regione per far sì di mettere nello stesso pacchetto anche le quote del comune, della provincia, non so cosa vorrà fare la Camera di Commercio. Ma il concetto è questo, occorre separare la parte immobiliare dalla parte gestionale, tenere nella disponibilità della parte pubblica la parte immobiliare perché è un vero capitale ed è importante che rimanga nelle mani saldamente delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali. La parte gestionale, ma non il 40% che è in mano alla regione, interamente, secondo me va messo sul mercato. A quel punto un operatore privato che si occupa di grandi eventi, che si occupa di congressi, di convegni, di esposizioni, probabilmente può trovare in questa struttura di grandi dimensioni, ben collocate in una delle città più belle della Toscana, il motivo per farne oggetto di un serio sfruttamento che produca anche reddito. C'è preoccupazione da parte del sindaco per i riesvolti che può avere questa decisione per la città di Arezzo? Beh, nell'immediato sì, perché nell'immediato il socio di maggioranza relativa ha deciso di mollare e questo è un segnale non bello ovviamente, quindi dovremo un po' verificare come potremo reagire nei prossimi mesi. È anche vero che secondo me la quota che la regione toscana ha dichiarato di mettere in vendita avrà qualche difficoltà di collocamento nel mercato delle società di gestione di centri congressuali e dispositivi, quindi non è nemmeno detto che la regione, dopo questa dichiarazione di intenti, riesca veramente a vendere questa parte di capitale azionario. Però io sostengo che certi percorsi nascono insieme, e così è nato Arezzo Fieri Congressi, che allora si chiamava Centro Affari, e devono essere proseguiti insieme, quindi alzo il dito per dire ma c'eravamo anche noi, perché non ci ha interpellato? Vediamo se adesso si riesce a ristabilire quel rapporto corretto che ci deve essere tra le istituzioni. Per gli altri soci, provincia e banche Etruna, quale potrebbe essere il futuro dell'Arezzo Fieri? Diciamo provincia, ma anche Camera di Commercio, c'è un 20% in mano alla Camera di Commercio, che ha, credo, tutto l'interesse a mantenere in vita la gestione, o comunque la vita di questa associazione, di questa importante struttura. Quindi sentiremo il Presidente che intenzioni ha, io ho sentito, ma brevemente, perché avevamo una conversazione telefonica disturbata, il Presidente del Rezzo Fieri Congressi, Andrea Boldi, che aveva detto che anche lui ci è rimasto male, perché non ne sapeva nulla, è arrivato un po' come un fulmina a ciel sereno. E anche lui reagisce dicendo, ma si può fare di meglio. Beh, vediamo, nei prossimi giorni vedremo di stabilire un tavolo, non di concertazione perché non mi piace questo nome, ma comunque diciamo di programmazione del futuro di Arezzo Fieri Congressi. Quali sono le intenzioni del Comune di Arezzo? Di valorizzarla, assolutamente. Cioè Arezzo, voi sapete che io sto cercando di rilanciarla, usando il più possibile al massimo grado la leva turistica. La leva turistica fonda i suoi motivi di, diciamo, viaggio ad Arezzo, di permanenza ad Arezzo, di arrivo ad Arezzo, non soltanto un patrimonio culturale e monumentale impressionante, ma anche la struttura congressuale espositiva di Arezzo Fieri Congressi, che quindi deve fare da moltiplicatore. E quindi io conto molto sul risultato, ma non tanto economico in senso stretto della struttura, quanto per il richiamo di turisti e di persone che può operare. Per questo è una struttura chiave nella economia della nostra città. Tant'è vero che la rivisitazione del sistema stradale del progetto Ex Lebole lo ho rivisto proprio in funzione di una, come dire, sinergia tra Arezzo Fieri Congressi, i padiglioni espositivi e i parcheggi dell'area che si andranno a costruire nei prossimi mesi, per far sì che una struttura possa contare sulle infrastrutture dell'altra e direi anche viceversa alla fine. Quindi è una zona, quella che l'ingegnere Luccherini aveva attezzato la cittadella degli affari, che ha un suo perché. E certo che se uno dei soci di maggioranza relativa, di uno dei soggetti più importanti, fa un passo indietro, siamo fortemente preoccupati.